Una passeggiata come quella che sto facendo oggi l'ho fatta 11 anni fa, 12 anni fa, quando alcuni consiglieri circoscrizionali all'ora di opposizione mi dissero ma devi completare i lavori sul lungomare. Io ho detto guardate che in Comune non c'è nessun progetto, bisogna ricominciare da zero. Quindi abbiamo non solo bandito il concorso per il progetto, poi abbiamo fatto gli studi meteomarini per vedere in che maniera le correnti incidono sul progetto e adesso vedere tutto questo lavoro che si sta per completare è un'emozione molto forte. Questo era un quartiere molto caro a Pinuzio Tattarella, quindi possiamo dire che noi siamo riusciti in questa città, e parlo più da ex sindaco che da presidente della regione, perché qui da presidente della regione io non ho fatto nulla. Siamo riusciti a completare un sogno che, concepito da alcuni, è stato realizzato da altri. Questo significa che per noi il diritto, dovere alla cittadinanza scavalca gli orientamenti politici. Questo mi rende molto orgoglioso di essere pugliese e di essere maresino.